Saremo presenti il 19 al corteo dei migranti perché siamo internazionalisti contro gli stati, contro le frontiere, per la libera circolazione degli uomini e delle idee. Saremo presenti il 20 perché c'è uno sciopero sindacale, due sindacati di base con corteo perché il nostro posto è sempre stato tra i lavoratori e tra i risultati e saremo presenti il 21 alla manifestazione finale perché non vogliamo che il monopolio della protesta del 21 si è lasciato per esempio alle forze istituzionali che comunque parteciperanno a contestare quello che loro stessi hanno accettato di portare qui a Genova. A chi ti riferisci? Mi riferisco evidentemente a tutta la classe politica di Essina che quando D'Alema ha regalato il G8 a Genova erano entusiasti, oggi sembra che saranno un testo al corteo a contestare il G8, hanno perso le elezioni, devono far fin di fare opposizione, però un po' di coerenza non guasterebbe.